a rompere il cartello no no non va dietro provo a tirare da qua se non è quella del è quella del scoso se non è quella del scoso ascolta me metti in folle secondo me ti aiuta un po prova adesso prova quella pedivella e no, così non va devi trovare la pedivella vabbè magari parte se noi mettiamo in volto mettiamo la marcia e faccio girare la cartella si deve stare attento a una volta del cart mettiamo a tirare giù questo ragazzo se c'è il qua ma non esce lo stesso ricordi che se la mosca in volto lo facciamo muovere lì la faccio girare piano ma senza accendere non ce la fai dire si incastra piuttosto di su piuttosto di su fai girare questo cazzo di pignone figa metti in moto no in moto no metti la marcia la faccio girare senza accenderla però metti la seconda fai così aspetta 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 fai così aspetta accendela aspetta non accendela però vedi si gira vai in su la cartella prova ad andare indietro in avanti non ce la fai è possibile che ce la fai è bloccata ragazzi non ce la fa neanche va va che si muove dai metti in moto va che si è ramosso appunto si muove fa il giro viene fuori sai perchè prova a flettere a farla pesare giù no no da ammortizzatore siediti qua quando gli hai dato il colpo ma qua c'è mica seggio io lo tiro anche fuori però il pignone dopo è forzato sempre dalla giralo su un bel cardano no la scorpa il modello 2023 col cardano eh bravo guardate eh ma gira dalla parte sbagliata lo incastra sempre di più metti la marcia e spingere indietro metti sulla catena sulla corona e tiri indietro ti ricordi Pietro l'abbiamo messo sulla catena sulla corona e abbiamo tirato indietro l'abbiamo provato adesso non ci arriva no ma se gli dai due o tre colpi fatti bene vedi che non esce il pignone è forzato dalla catena non esce il pignone infatti non riesce non viene fuori non riesce a tirarlo fuori e come dicevo io se noi mettiamo su la catena continua a dirglielo devi metterlo in moto perché anche con quella dell'era abbiamo dovuto per fare così metti in moto sta moto adesso guarda che sei in fuori tira la frizione ma adesso tira la frizione bravo eh no ma però gira solo il pignone e basta il pignone me lo fa girare su eh no questa la tira indietro ancora la ruota gira così il pignone lo branca pignone gira così dai capi ma siccome è fermata qua questa qua te la tira dentro ancora tutta c'è sempre di più scusa ma se la lasciamo lì buttiamo su due sassi e basta devi girare questa devi girare indietro solo la ruota devi girare ma non vengo lì perché aspettate devi spingere dai eh cazzo però questa è stata giù mettila sul contrario no? tu di sopra la tira il contrario scusami eh la fai girare indietro ma faccio metterla di sopra di sopra? come faccio metterla di sopra questa che è sotto? io lo sapevo io nooo si ma non salta giù aspetta eh che proviamo ancora è super sicurezza se la seggia comunque è qualsiasi la buttiamo ai cavoli via la buttaria allora il problema è che il problema è che se troviamo la il mago cargamela in qualche burro io non mi giro io non mi giro non mi giro non mi giro